Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Andiamo avanti con Fallout 4 Da dove eravamo rimasti Siamo qua, eravamo rimasti Che dovevamo venire in questa cittadina Esattamente si chiama, non lo so insomma Ad aiutare dei nobili Perciò andiamo a vedere cosa hanno da dirci Dobbiamo parlare con questo tipo qua Ehi Ehi la Non voglio guai Sono qui per aiutarti Perché ho quella maschera bruttissima Vabbè, dopo la cambierò Pensate ragazzi, sul video scorso mi hanno dato il copyright Per le canzoncine che c'erano nella radio del gioco Posso fare qualcosa per aiutarti Per dire Ok, dobbiamo uccidere i predoni Impianto di assemblaggio Ok, ci penso io Con il fucile a pompa non ho paura di niente A meno che non siano dei robot Perfetto Dov'è che dobbiamo andare? Ta 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 Di qua Cane, ci sei? Perfetto, via Abbiamo scoperto Un cimitero ragazzi Un cimitero? Questo qua Oh, scusi signora La lascio tranquilla E io vado avanti, eh Siamo arrivati in questa cittadina Però non penso sia il nostro obiettivo Perché Se lo segna un po' più avanti Io continuo ad andare avanti E Ovviamente vi taglio questo pezzo Non ho un cavolo Cosa sta succedendo qua? Con la spranga di ferro Dai Dai Perfetto Grandissimo cane Bam Cosa è successo qua? Ci sono delle munizioni Fucile Molotov Questa roba qua Per lanciare le granate Spiegare le mine E copiaggiare Va bene Non lo userò mai Prendiamo solo le munizioni E andiamo avanti Tappo Munizioni Dai Prendi le munizioni Bravissimo Tirapugni Pistola automatica Lattina Torace Capuccio Perfetto Non ci serve niente Piccolo Come cazzo si dice Piccolo Niente Intrattempo No Imprevisto Ecco Piccolo Imprevisto Noi andiamo avanti Qua in città è pericoloso A quanto pare Ok Qua siamo arrivati Ma C'è un bel casino Mi sa di si Perché ho visto delle persone Adesso le vedrete anche voi Ecco Che è successo E' robotti Orco orco Kan Porca puttana Non ho munizioni Un attimo E' una cosa con cui Sono sicuro di avere munizioni Questo qua Porca puttana Il ca Come cazzo Ci si abbassava Ok Pericolo Curiamoci E' provviste Mangia Perfetto Muori Porca la puttana Fucile Ok Zero colpi Per il fucile Ma Abbiamo le munizioni Come cazzo Si usano le munizioni Munizioni Equipaggiate Sto cazzo Di oggetto No Ok Dobbiamo Usare le armi Che abbiamo Ma Abbiamo un cazzo Fucile La leva Questa magari Ci ha dei proiettili No Questa dei proiettili No Questa dei proiettili Nemmeno Se no Usa la mitragliatrice Vaffanculo Dai Venite fuori Or Cazzo Cazzo Non scherzare Eh dai Brutti Bastardi C'è quella Macchinetta Di merda Che devo Farla fuori Eh So chi è Che mi spara Da dietro Tu puoi anche morire Eh vaffanculo Macchinetta Di merda Dai Venite fuori Bastardi Corri Corri qua Bene Il cane Il cane Il cane Il cane No no Niente Cazzo Dove sono Sei qua Sei qua Brutto bastardo Andiamo da dietro Vediamo se c'è Qualche passaggio C'è 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 Oh cazzo Granata Uso uno Steampack Mangia del cibo Bevi dell'acqua Perfetto Proviste Mangia Si ma Ok Ho mangiato Ora devo aspettare Però che sicuri No un attimo No questo è il mio cane Il tuo braccio è meno matto Ed è più difficile prendere la mira Usa uno steampack per curarlo Ma sto steampack serve per tutto Perfetto Corri un attimo via da qua Ok Ora direi che possiamo anche usare il fucile a pompa Ok Venite qua brutti bastardi Pezzi di merda Ok Ok E ricapitoliamo Ok Dopo che sono morto Me la sono Lasciatemi parlare almeno Ehm Me la sono dovuta rifare tutta quanta Perché Mi hanno ucciso E allora io stavolta Vaffanculo Io prendo questo E Si salvi chi può Pezzi di merda Machinetta di merda Vuoi morire Perfetto Vaffanculo Stavolta Tuttavia non muoio A costo di spendere Tutte le munizioni Eh no Entriamo subito dentro E vaffanculo E vaffanculo Uccidiamoli tutti C'è il casino C'è il casino adesso qua dentro Scommetto Ci scommetto quello che vuoi Dai Perfetto Non c'è niente Tutto Tranquillo Per adesso Poi Apri le porte E c'è il disastro L'ammazzo o non l'ammazzo? No non l'ammazzo Ammazzo dopo Non c'è nessuno Porco Mi ha già visto Eh no eh Dai dai Fatevi sotto Pezzi di merda Quanti cazzo siete? Non sparare al mio cane Che Ti ammazzo Eh va bene L'abbiamo capito Come no? Adesso ci curiamo Vedi che differenza che fa Allora Mangia questo E mangia Questo Veloce Curati Buongiorno Esatto Non c'è niente Anche due Vediamo Dove sei Fatti vedere Cazzone Siamo i benvenuti Qua dentro Eh Sei morto 500 colpi Caricati Anch'io Porca puttana Quella macchinetta Di merda Eh va Fanculo No non c'è nessuno Morite Morite Ok Qua vediamo Cosa c'è di utile Niente Niente Cos'è sto schifo Salviamo Salviamo la partita Prima di andare di là Ok Apri No no F Ok Perfetto Ce n'è uno Là in fondo Morto Morto Fanculo Morite tutti Però devo fare il giro Non c'è nessun giro Da fare Però Qual è il mio obiettivo Uccidi tutti i predoni Giusto Urco boia Via 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 Che casino Ok Siamo morti Di nuovo Arma surriscallata Io mi domando Quando Quando finirò Le munizioni No è impossibile Qua È difficile Non abbiamo neanche armi Ok Usiamo la pistola E vediamo Cosa combiniamo Ah Qua un bel Ok Un bel casino Di strade E muori Porco Due Ok Andiamo su Per di qua E Guarda come ti ammazzo E la molotov Butano Sti qua Io come faccio a buttare una molotov Ok No Alta L Non l'ho capita Mi son buttato una molotov Addosso E sono morto Crepato Male Sono un deficiente Adesso la faccio Sta cazzo di parte Non mi frega niente Ok Siamo riusciti a Far fuori la prima parte Dei nemici Prendiamo anche questo Le Le munizioni Ehm No Completa una strada Non mi interessa Adesso ci saranno nemici Anche qua Sono sicurissimo O sono venuti tutti No Eccolo la Headshot Stronzo Ok Adesso arriveranno qua sopra Dai Venite qua sopra Dov'è? Ai 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 Via 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 da qua Curati Mangia Mangia La talpa Perfetto Curati velocemente Recupera la salute Voglio vedere dov'è Ok Dov'è il bastardo? Pezzo di merda Fucile a pompa Molotov Questa roba No Questa roba qua l'ho già presa Fucile a pompa Steampack Ok Qua non c'è niente Controlliamo un po' questa zona Questo cos'è? Non serve niente Una cassetta Il jet Qua tutto distrutto Una cassetta Jet E un medikit Qua magari c'è qualcosa Armadietto No Armadietto Non c'è niente Computer distrutto Questo cos'è? Non so Proviamo Allora qua siamo già stati Andiamo per di qua Qua abbiamo fatto fuori tutti Qua c'è un'altra cassetta Proviamo a scassinarla Perfetto Sì C'è questo E c'è Ehm Non lo so cosa sono Le mentine penso Prendiamole lo stesso Ok andiamo di sopra Abbiamo totalmente da un'altra parte Dobbiamo andare Ok Di qua no Cos'è questa cosa? Non è niente Andiamo su Cos'è questo rumore? Vediamo un po' Cos'è sto posto? C'è un tipo? Oh cazzo Adesso arrivano altri Madonna Dove cazzo siete? Madonna mia L'avevo neanche vista Corri via da qua Via 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 Ok cane Un attimo Fermo qua Lì c'è la macchinetta Salute è bassa Curiamoci 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 Usa 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 Due di questi Veloce 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 Boh E Non ci arriva fino a là Dobbiamo scappare in qualche modo Cos'è? Ero lanza fiamme quello Di qua si può passare Oh cazzo Con calma eh ragazza mia Perché sono morto? Morti Questa non l'ho capita Bene ragazzi Per oggi può bastare così Noi ci vediamo al prossimo video Della continuazione di Fallout 4 Ciao a tutti i Reals